Inaugurata la nuova sede di Habitat Micro Are e di Altura nel comprensorio Ater di Via Alpi Giulia 8 con un open day dedicato alla presentazione degli spazi e delle attività che verranno offerte durante la presentazione il team di Habitat Micro Are ha illustrato le attività che verranno organizzate in futuro come i laboratori creativi per bambini e adulti, gli incontri di scambio culturale e molto altro ancora. L'inaugurazione di un posto che ci metterà nella condizione di essere più vicino ancora ai nostri cittadini ai nostri inquilini in queste abitazioni di altura. Un'eccellenza in questa nostra città di Trieste dove le Habitat Micro Are hanno ormai un'esperienza ultra decennale nella qualità di essere vicini ai cittadini, di essere vicini agli inquilini, non solo come Ater ma assolutamente anche come Comune di Trieste con gli assistenti sociali piuttosto che Asugi che con questa triangolazione in qualche modo ci vede coinvolti a essere sempre pronti a dare risposte sul territorio ai cittadini bisognosi. I prossimi incontri con gli abitanti della zona sono già stati fissati per il 13 e il 20 aprile alle ore 17. Durante questi appuntamenti i partecipanti avranno la possibilità di condividere idee e proposte per il futuro della comunità contribuendo alla creazione di un ambiente inclusivo e accogliente anche con la possibilità di prestare opera di volontariato.